È vero, c'è stata la festa della Polizia di Stato, ma per Tamara Bizzotto, assessore alla sicurezza di Bassano, è stata anche l'occasione di incontrare il questore Antonino Messineo, con il quale ha parlato di un argomento che prude. È un'annosa questione che riguarda la sede del commissariato a Bassano del Grappa e quindi ci sarà un incontro nel prossimo futuro per cercare di capire quali possono essere le soluzioni. Ci confronteremo e penso che le idee verranno espresse in sede opportuna. Dobbiamo capire effettivamente le esigenze in termini di spazio e anche di collocazione perché anche la logistica ha una sua importanza, però è un argomento che affronteremo e sicuramente sarà utile questo confronto con il questore. Svanita l'idea della caserma Montegrappa con la cittadella della Polizia, sito dove verranno ultimati alcuni lavori entro il prossimo anno a favore delle associazioni di protezione civile, anche grazie all'intervento già messo in bilancio di oltre 300 mila euro. Ed una visita breve a Bassano richiesta stamattina dallo stesso questore per chiedere che venga trovata una soluzione all'annosa questione. Tuttavia non vi sono molti siti dove il commissariato di Bassano potrebbe trovare collocazione la caserma fincato alla difficoltà del vicino passaggio a livello, ipotesi che potrebbe davvero invece prendere forma l'ex caserma dei forestali in via Trentino in Rondobrenta.